Musica Benvenuti grazie su GES per questo nuovo video siamo tornati nella quinta parte di The Last of Us Remastered naturalmente ce l'hanno lasciati dopo che avevamo conosciuto Ellie l'avevamo portata in questo rifugio adesso è notte e dovevamo portarla alle luci se non ho sbaglio avevamo detto ora sentiamo cosa da dire la tipa qua perfetto ora bella vai giusto prima di segnare ok vai Joel quindi ora ah ci andiamo al generatore ah triangolo ok perfetto perfetto e prendiamo il tasto grazie a tutti grazie a tutti ok spero di andare nella direzione giusta ma dovrebbe essere l'unica purtroppo non mi ricordo più molto bene tutto il gioco in sé ok ok perfetto e siamo fuori qua se non sbaglio siamo già fuori dalle mura si se non erro dobbiamo salire qua fuck ok Niente corruzione, porco schifo. E' positivo al test contro il virus. Grazie. 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 Come ben sappiamo, Ellie è infetta, ma è immune. Grazie. 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 Sono passato, il suo campo visivo è abbastanza limitato perché comunque solo dove c'è la torcia, manco forse un buio più profondo che non vedi niente. Qua c'è qualcosa di luminescente, bella, per le forbici e il nastro. Sì, per chi ne lo sappia, dubito, però in della sua fase si craftano anche le cose, quindi i materiali in giro fanno sempre comodo. Ok, pensavo ci fosse uno di quelli, invece era un lampo. Di qua È tutto, tutto molto, molto stealth. Eccolo. Ho fatto un bordello che non ci hanno sentito, non so come. Grazie. 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 Perfetto Far accomodo un altro mattone Più avanti Infatti ci stanno già un nuovo cercando Porco Meno scamato Sì madonna Ce la fai Com'è che mi ha fatto fuori i sette colpi No Oh Da dove cacchio era? Eh la vedo brutta qua La vedo bruttissima Col casco bisogna fare i due headshot Porco schifo Curo Provo a farmi la runnata Vai Run run Vai corre Dei correre un bot Dei correre Dei correre un bottissimo Perfetto Non mi raggiungeranno Se non sono già quasi qui Perfetto Allora forse si è buggato Perché no Non mi sono raggiungendo Però Ok Niente Boh Mentre lui parla da solo Ci siamo Vai Apri Sono ritornato Allora forse Grazie. Bene, allora penso di poter fare un vaccino. E sperano di poter fare un vaccino, quindi dobbiamo consegnare per forza Ellie alle luci. E' bello, bello, la scenografia di TASFA mi fa impazzire. Quindi ragazzi, visto che il palazzo è bello lontano, noi faremo la corsa, la run verso il palazzo nella prossima puntata. Io vi ringrazio, mi invito a passare in Instangaming per giochi scontatissimi con il mio link. Mi invito a passare nei social e iscrivervi e lasciare like per nuovi video. Io vi ringrazio, da oggi è tutto, ciao a tutti. Bella.